Eccoci con Pierotti, buonasera, portiere della Nova Virtus, stasera 3 per la Nova Virtus, 2 per il Real Miami, qualche brivido sul finale, come è andata? Raccontacela tu. La partita è andata bene, siamo stati un po' a confusionare per metà del secondo tempo, alla fine abbiamo tirato un po' in barca sul 3-1, infatti l'ultimo secondo è arrivato il gol del Miami, però va bene così, insomma, siamo già, non ricordo quanta vittoria, che vittoria. Sembravate in gestione per quasi tutta la gara, poi ecco, come sul finale qualche attimo magari di distrazione, una cosa mentale, secondo te? O magari a livello fisico c'è qualcuno che ne risente un po' di più? Vabbè, sicuramente sul 3-1 ci siamo un po' rilassati, quindi penso sia anche normale, più poi mancavano veramente pochi secondi alla fine della partita, quindi direi che ci sta. Vabbè, ne abbiamo vinto 3-2, quindi va bene. Cosa manca a questa nuova Virtus? E un po' di testa. Grazie allora, Pierotti, complimenti, ciao.